Il titolo del Convigno missionario Il titolo di quest'anno, Alzati e vai a Nineveh, la grande città, è un titolo molto significativo perché oggi vive un'esperienza missionaria sia in Italia, nei piccoli centri o all'estero nel portare la fede. Io sono arrivato in Terra Santa nel 2006, è stato un percorso inizialmente molto difficile, essere cristiani e testimoniare la fede qui in una città piccola come Bethlehem è un'esperienza unica al mondo per le difficoltà e la situazione in cui si trovano oggi i cristiani e perché si recupera e di questo le comunità medio orientali hanno molto da insegnarci una tradizione identitaria della nostra fede che probabilmente noi, di cui noi oggi in Europa avremmo tanto bisogno. La testimonianza della fede avviene con i gesti quotidiani di incontro sul lavoro tra le persone, è uno stile di presenza diversa, è uno stile di presenza sorridente, illuminato, felice di chi ha fatto l'incontro. Ed è questo incontro, anche se non si può esprimere quando si è una piccola minoranza, quando si è un piccolo gruppo, anche se non si può esprimere con le parole si può esprimere con i gesti, si può esprimere con l'amore che si dà nel fare le cose. E' questo segno che probabilmente ci differenzia quotidianamente nel nostro incontro con Dio e nel nostro incontro con gli altri musulmani e ebrei nella quotidianità della nostra missione. Grazie a tutti.